In questa video lezione affronteremo quelli che sono i soggetti chiave nella gestione dei programmi operativi. Ovviamente i soggetti chiave sono quelli noti e sono l'autorità di gestione, certificazione e audit, ma questi soggetti in qualche modo tengono conto di quelli che sono i vincoli e i regolamenti comunitari. Va a dire in qualche modo Bruxelles interviene direttamente e indirettamente su quello che sarà poi l'attuazione dei fondi. In che modo? Attraverso diverse disposizioni, in particolare attraverso i regolamenti comunitari come è noto, ma anche attraverso alcuni elementi, alcune indicazioni che vengono dagli altri organismi. In particolare la Commissione Europea ovviamente incide molto direttamente sull'attuazione dei programmi e su queste autorità, ma a sua volta è sottoposta a controllo e vigilanza da altri soggetti, in particolare la Corte dei Conti Europea. Sappiamo bene che incide, perché? Perché veigila sul bilancio comunitario. Quindi è sottoposta appunto a giudizio della Corte dei Conti Europea, la Commissione Europea. E quindi qual è il meccanismo? Perché tutto quello che verrà detto negli anni a seguire, da parte della Commissione Europea, te racconta delle indicazioni della Corte dei Conti Europea evidentemente, sull'operata e sull'attività svolta appunto dalla Corte stessa. L'altro soggetto che incide in qualche modo sull'attuazione dei fondi è anche l'Olaf, l'Ufficio Europeo per la lotta antifrode, che in qualche modo interviene in diverse modalità, sia perché previene le frodi e quindi dà delle indicazioni sull'analisi dei rischi, infatti elabora per la Commissione Europea delle politiche antifrode da applicare a tutti i fondi comunitari. Esamina tutte le frodi e sulla base di quello che è l'operato dell'autorità di gestione, tant'è vero che l'autorità di gestione stessa è obbligata a trasmettere periodicamente attraverso un sistema informativo tutti i casi di frodi, le modalità che hanno appunto portato a quelle frodi, in modo tale che consente all'Ufficio Europeo per la lotta antifrode di affrontare queste tematiche. Oltre a quindi i soggetti a livello comunitario in qualche modo incidono tramite la Commissione Europea, perché poi, come già detto, intervengono su focus specifici di anno in anno, tant'è vero che chi opera nell'ambito dei fondi strutturali sa che periodicamente la Commissione Europea si concentra su alcuni aspetti e focalizza l'attenzione su alcuni aspetti, ad esempio su rispetto alle norme di materie di apparti, materie di aiuti o sulla stabilità delle operazioni. Questo focus annale su alcuni elementi deriva fondamentalmente dalle elaborazioni fatte a livello comunitario. A livello nazionale, a loro volta, ci sono organismi di coordinamento, organismi di coordinamento che sono rappresentati dalle amministrazioni centrali, in particolare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche di Coesione, che si occupa della programmazione, di tutti quelli che sono gli aspetti di programmazione connessi ai fondi strutturali. L'Agenzia della Coesione, invece, si occupa sempre dal punto di vista del coordinamento di tutti i fondi SIE, in particolare di quello che sono i processi di attuazione. Quindi vediamo già nelle competenze istituzionali quelle che sono appunto le competenze di accompagnamento e sorveglianza sull'attuazione dei fondi. Ed è molto importante il ruolo dell'Agenzia rispetto a quello che era precedentemente il DPS, in quanto incide molto più direttamente nell'attuazione dei fondi, attraverso anche azioni di accompagnamento. E in alcuni casi può sostituirsi all'autorità di gestione, nei casi in cui, appunto, per gravi inadempienze e gravidità dell'attuazione dei fondi, può adottare un intervento sostitutivo e quindi sostituirsi per l'attuazione dei fondi. Oltre a questo soggetto, un ruolo chiave sempre di coordinamento, è il Ministero dell'Economia e Finanze, Igrue, che si occupa ovviamente della gestione delle risorse, sia come rilevanza, come quota di cofinanziamento nazionale, che viene posta sempre appunto a fianco ai fondi comunitari per ciascun programma, sia perché riveste un ruolo di coordinamento dell'autorità di audit, dei programmi. Questo incide moltissimo. Perché? Perché la Commissione Europea come fa a sorvegliare e dare indicazioni a tutti i programmi operativi? Fondamentalmente si utilizzano le autorità di audit, l'organismo nazionale dell'autorità di audit. E quindi, diciamo, attraverso l'autorità di audit, le indicazioni che la Commissione Europea, per il processo che abbiamo detto, e vuole incidere sul programma operativo, demanda all'autorità di audit l'attuazione. A sua volta, l'autorità di audit, attraverso anche l'organismo di coordinamento che è rappresentato dal MF Igrue, trasferisce e fornisce delle indicazioni ai soggetti che gestiscono gli interventi per assicurare la regolarità e una sana gestione finanziaria del programma. Quindi il MF Igrue riveste un ruolo molto rilevante rispetto al sistema di gestione e controllo, perché fa il coordinamento dell'autorità di audit e mette a sistema tutti i vari esperienze, tutto quello che è l'attuazione, quindi le regolarità, le eventuali regolarità riscontrate, e quindi pone delle raccomandazioni, delle prescrizioni per evitare di incorrere in queste regolarità in futuro. Oltre a questo soggetto, ovviamente, a questi soggetti che abbiamo messo in evidenza, c'è l'AMPAL come organismo di amministrazione nazionale di coordinamento del Fondo Sociale Europeo e rispetto appunto a tutti questi soggetti si incontrano, o meglio è previsto nell'ambito dell'attuazione dell'accordo di partenariato, che ci sia un presidio nazionale di vigilanza e coordinamento composto da questi soggetti, in particolare dai soggetti di coordinamento, la presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la politica di coesione, l'Agenzia per la coesione territoriale, l'AMPAL come amministrazione di coordinamento del Fondo Sociale Europeo, prima del Ministero del Lavoro, e le amministrazioni di coordinamento del FEAS e del FEAMP. È previsto che facciano parte di un presidio nazionale di vigilanza e coordinamento, questo è espressamente previsto nell'accordo di partenariato, che svolge appunto un'attività di coordinamento che viene manifestato dall'amministrazione nazionale di coordinamento a favore appunto dell'autorità di gestione e certificazione audit dei programmi operativi. E quindi ciascuno, a diversi livelli di governo ovviamente, interviene per supportare l'attuazione, fornendo indicazioni e quant'altro, ovviamente sull'attuazione dei fondi. Fino adesso ci siamo occupati di tutte le infrastrutture, diciamo tutte le organizzazioni e soggetti istituzionali che non incidono direttamente sull'attuazione dei fondi, mentre adesso entriamo più dentro, in particolare rispetto a chi ha la responsabilità di una sana gestione finanziaria del programma. Il soggetto principale è l'autorità di gestione, perché l'autorità di gestione è responsabile appunto della gestione, della selezione delle operazioni e della gestione finanziaria del controllo. All'interno dell'autorità di gestione ci sono tutti gli altri soggetti che per competenza istituzionale attuano, quindi è là dentro che c'è il fulcro di tutti quei soggetti che in qualche modo sono responsabili della gestione e attuazione degli interventi del programma. A sua volta l'autorità di gestione può delegare a un organismo intermedio alcune funzioni per l'attuazione anche di parte del programma, ma è l'attorità di delega che individua esattamente cosa è andato attuato da questo organismo intermedio. Poi abbiamo l'autorità di certificazione che in estrema sintesi si occupa di certificare le spese alla Commissione Europea e di appunto richiedere in borsa alla Commissione Europea e quindi presidia i conti sostanzialmente. Infine l'autorità di audit, sempre in estrema sintesi, è quel soggetto che deve garantire l'efficacia del sistema di gestione e controllo. Rispetto a quello che è interessante verificare sono quelli che sono i documenti che ciascuna autorità di questa autorità deve presentare che sintetizzano il compito e la funzione di ciascuna di queste autorità. In particolare l'autorità di certificazione deve presentare i conti alla Commissione Europea. L'autorità di gestione deve presentare la dichiarazione di gestione sostanzialmente rispetto a quello che è stato fatto e una relazione di attuazione annuale, mentre l'autorità di audit deve presentare il parere di audit, sempre annualmente, e la relazione di controllo. La semplice analisi dei documenti che devono presentare individuano sostanzialmente cosa va fatto, cosa ciascuna autorità coinvolta nell'attuazione del programma è tenuta a realizzare. Quello che è fondamentale è che tutti questi soggetti presentano un qualcosa fatto, ma fatto non da loro stessi, ma fatto sostanzialmente dal beneficiario, che è quello il punto fondamentale, perché le spese che rilevano ai fini della certificazione appunto alla Commissione Europea sono quelle sostenute dai beneficiari. Tutta la relazione di attuazione che viene fatta dall'autorità di gestione è sostanzialmente quello che sono le attività svolte dai beneficiari, perché sono loro che attuano, e l'autorità di audit, ovviamente la relazione che viene fatta di controllo del parere, è sulla base dei controlli effettuati sui beneficiari. Tutto quindi si basa sul beneficiario, perché è fondamentale che quello che viene certificato alla Commissione Europea è la spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario. Quello che viene realizzato, descritto dall'autorità di gestione, è quello che viene effettivamente realizzato dal beneficiario, è quello che viene controllato dall'autorità di audit per fare una verifica sul sistema di gestione e controllo, si basa anche principalmente sull'esito dei controlli effettuati dai beneficiari, sulla correttezza delle procedure, delle spese e quant'altro. Quindi bisogna avere chiaramente qual è la definizione di beneficiario, quindi il beneficiario è il soggetto che è responsabile dell'avvio e dell'avvio dell'attuazione dell'operazione, quindi è spessamente codificato dal regolamento, è quel soggetto che nel caso dei regimi di aiuti è l'organismo che riceve l'aiuto e nell'ambito del strumento finanziario è il soggetto che gestisce lo strumento finanziario stesso. Quindi è fondamentale capire chi è effettivamente il beneficiario, mentre in caso dei regimi di aiuto o in caso di strumenti finanziari è esattamente codificato, non è così chiaro nell'ambito del soggetto che è responsabile dell'avvio e dell'attuazione dell'operazione. Perché? Perché la definizione di operazione che serve, è utile anche per definire che è il beneficiario, non è un'erricamente determinata, perché l'operazione sempre dall'articolo 2 del regolamento 1303 del 2013 è definita come un progetto, un contratto, un'azione, un gruppo di progetti selezionati dall'autorità di gestione del programma in questione o sotto la sua responsabilità che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità correlate. Quindi tutto per definire il beneficiario bisogna capire che cosa si intende per operazione. Il più delle volte coincide con il progetto, ma non necessariamente. Quindi è fondamentale che l'autorità di gestione dia indicazione rispetto a qual è l'operazione da prendere in considerazione e rispetto ai quali quindi può essere individuato correttamente il beneficiario. Grazie a tutti.